Una vera e propria disgrazia si è consumata ieri sera intorno alle 18 ad Eboli una bambina di 3 anni di nazionalità marrocchina ha perso la vita negando in una piscina in disuso, pertinenza della casa in cui viveva con la propria famiglia in zona Prato. La piscina era vuota e dei primi accertamenti svolti sembrerebbe che la bambina, sottraendosi per poco tempo all'attenzione dei genitori che erano in casa, si sia introdotta all'interno della piscina dalle scale e si sia tuffata in una pozza, creatasi con l'accumulo di acqua piovana. I genitori pare l'abbiano rinvenuta con il viso in acqua senza vita. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118 intervenuto prontamente sul posto. Il corpo della bambina è stato comunque trasportato presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli in attesa dell'esame autoptico che darà la conferma del decesso per annegamento.